Ben tornati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio e Notizia che apriamo parlando di cronaca e partendo da Catania dove i carabinieri hanno tratto in arresto un 44enne che aveva commesso una rapina a mano armata all'interno di una farmacia. I dettagli nel servizio. I carabinieri del comando provinciale di Catania, squadra Lupi, hanno arrestato un 44enne catanese pregiudicato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Al riguardo i militari dell'arma sono stati allertati da una chiamata pervenuta al 112 in cui veniva denunciata una rapina appena compiuta ai danni di una farmacia in zona Porto. In particolare il titolare dell'attività commerciale aveva riferito che un soggetto di cui era in grado di fornire una dettagliata descrizione sotto minaccia di un coltello a serramanico si era fatto consegnare l'incasso della giornata scappando a piedi. Nella circostanza i carabinieri, dopo essere tempestivamente giunti in loco e aver ricostruito i fatti, hanno riconosciuto lo stesso modus operandi di una rapina precedentemente commessa lo scorso mese di novembre, sempre ai danni di una farmacia. In quel caso il malvivente era stato rintracciato mentre stava cercando di far perdere le proprie tracce salendo a bordo di un autobus in direzione periferia della città. È stato quindi immediatamente predisposto un articolato dispositivo di ricerca composto dalle numerose pattuglie dell'arma in strada e coordinato dalla centrale operativa del comando provinciale che ha pertanto rivolto l'attenzione al capolinea e alle fermate degli autobus presenti nell'area interessata. Tale spunto investigativo si è rivelato vincente poiché i militari del nucleo investigativo di Catania, squadra Lupi, nel passare al setaccio tutti i pullman in stazionamento nel piazzale Borsellino sono riusciti a scovare il rapinatore sul mezzo pubblico che conduce a Librino. Quest'ultimo, braccato dagli operanti, ha cercato vanamente di fuggire poiché ad attenderlo all'esterno dell'autobus c'erano i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo dopo un'intensa colluttazione a causa della sua violenta resistenza. L'uomo, all'esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso sia del coltello a serramanico sia dei 250 euro rubati nella farmacia. Il pregiudicato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza. Ancora morti purtroppo sulle strade siciliane. Un uomo di 37 anni è infatti deceduto a Palermo in seguito a un tragico incidente avvenuto in Viale, regione siciliana. Il 37enne era alla guida di un furgone frigo quando, per cause ancora ad accertare, ha perso il controllo del mezzo a dando a sbattere contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Ieri sera invece, intorno alle 21, un 55enne ha perso la vita a Messina sulla statale 114. L'uomo, che viaggiava in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto all'altezza dell'abitato di Galati. Sono arrivati i carabinieri, la Polizia Municipale e un'ambulanza della 118 per provare a soccorrere il motociclista, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Cambiamo argomento, parliamo adesso di emergenza migranti e della situazione di Lampedusa che resta sempre molto complicata. Sono infatti 175 i migranti arrivati fra la notte e l'alba a Lampedusa con quattro diversi barconi. A soccorrere le carrette del mare sono state le motovedette delle fiamme gialle e della Capitaneria di Porto. Sul primo natante, che tra l'altro aveva anche perso in acqua il motore durante il viaggio, c'erano 37 persone, fra cui 13 donne e un minore in fuga da Mali, Costa d'Avorio, Guinea e Camerun. Sul secondo invece, giunto all'alba, erano 49, fra cui 12 donne e 4 minori, trasbordati anche i 39 migranti, compresi 11 donne e 2 minorenni, che erano su un'imbarcazione di ferro di 7 metri e poi ancora altri 50 migranti, fra i quali 22 donne e 10 minori. Tutti, dopo un primo triage sanitario effettuato a Molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola, dove al momento ci sono oltre 1.200 ospiti. Nonostante i quotidiani sforzi da parte della Prefettura di Agrigento per trasferire gli ospiti della struttura di prima accoglienza a Porto Empedocle, i padiglioni di Lampedusa, che possono ospitare, lo ricordiamo, 350 persone al massimo, restano nel caos. Ci spostiamo ad Avola, parliamo di sostanze stupefacenti. Avola siamo quindi nel Siracusano. I carabinieri della compagnia di noto sono intervenuti all'interno di un'abitazione di un pregiudicato di Avola, un 46enne, il quale aveva allestito una vera e propria serra all'interno della sua casa per la coltivazione di marijuana. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute piante con infiorescenze pronte per la raccolta e la successiva commercializzazione e marijuana già essiccata per oltre 20 grammi, oltre a materiale utile per il confezionamento delle dosi di stupefacente. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e posto ai domiciliari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Ed ora invece nell'Agrigentino parliamo di ladri, ladri in azione a Montallegro. Alcuni malviventi si sono infatti intrufolati nell'abitazione di una coppia di anziani smurando la cassaforte e portando via ben 7500 euro in contanti, ma anche orologi e altri oggetti di valore. Una volta scoperto il furto, la figlia della coppia si è presentata presso la stazione dei carabinieri di Montallegro per sporgere una denuncia ovviamente a carico di ignoti, con i militari dell'arma che hanno raccolto le testimonianze della donna e hanno subito avvisato la Procura della Repubblica e avviato le indagini per cercare di arrivare ai responsabili di questo furto commesso, come detto, a Montallegro. Parliamo adesso di terremoti 1 nello specifico di magnitudo 5.1 della scala Richter, terremoto registrato nel Cosentino ma avvertito anche nel Messinese. Il sisma si è verificato ieri sera nel Martirreno con epicentro a largo della costa cosentina a una profondità di 286 chilometri. Come detto il terremoto è stato avvertito anche a Messina ma fortunatamente al di là dello spavento per coloro che appunto hanno avvertito il sisma non si sono registrati fortunatamente danni a persone o cose. Torniamo nell'agrigentino, torniamo a occuparci dell'omicidio dell'abbracciante agricolo, un 65enne Angelo Castronovo è stato ucciso ieri in Contrada Cipolla, siamo nel territorio compreso tra Palma di Montechiaro e Licata. L'uomo è stato raggiunto da più colpi d'arma da fuoco. La vittima viveva a Licata dallo scorso marzo dopo sei mesi di carcere e un anno di arresti domiciliari era tornato in libertà. Era stato arrestato il 30 luglio del 2020 dalla squadra mobile nell'ambito dell'inchiesta su una faida che avrebbe provocato due omicidi come conseguenza del furto di un trattore. Ci spostiamo virtualmente a Termini Imerese dove un detenuto è stato trovato impiccato, ovviamente morto, nel carcere di Termini Imerese. L'uomo era stato arrestato per aggressione alla moglie e alla madre. Dopo aver appicchiato la consorte infatti era finito ai domiciliari a casa della madre e aveva malmenato anche lei, da qui la misura più restrittiva della custodia cautelare in carcere. Era disabile, aveva una protesi e ha avuto problemi con la droga. Dopo due giorni dall'arresto si è chiuso in bagno e si è impiccato con la cintura dei pantaloni. Parliamo adesso di mafia, della cosiddetta mafia dei Nebrodi, parliamo di condanne per la precisione sei secoli di carcere complessivi, pensate un po'. Si è conclusa così, si è concluso così con questa maxi condanna, il processo alla mafia dei Nebrodi, celebrato davanti al Tribunale di Patti. Si tratta quindi di pene durissime dopo sette giorni di Camera di Consiglio per un dibattimento con 101 imputati, celebrato in tempi record e che ha visto impegnati 4 PM della DDA di Messina. Si tratta dell'aggiunto Vito Di Giorgio, i magistrati Fabrizio Monaco, Antonio Carchietti e Alessandro Loggerfo. Il processo scaturisce dall'operazione denominata Nebrodi, che oltre a ricostruire l'organigramma dei clan messinesi, ha scoperto anche una maxitruffa milionaria commessa dalle cosche ai danni dell'Unione Europea. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Malta. Nell'ambito del progetto denominato La sicurezza stradale non ha confini, progetto organizzato dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, la sezione provinciale di Ragusa, progetto organizzato proprio a Malta. Durante questo progetto è stato anche presentato un interessante libro della scrittrice Piera Maria Carbone. Per noi c'era Lucio Di Mauro che ha intervistato la scrittrice. Sentiamola. È stata sicuramente una giornata intensa qui a Malta, organizzata dall'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Si chiude con la presentazione di questo straordinario libro, La razza d'oro dei branciforti di Piera Maria Carbone, edito da Carlo Saladino. Questo libro è stato già presentato al Palazzo Reale di Palermo, a Salone del Libro di Torino, e adesso nella sede della Dante Alighieri di Malta. Sicuramente un grande risultato. Sono veramente contenta di fare questa presentazione a Malta e di ciò voglio ringraziare la dottoressa Paola Stranges, segretario generale della società Dante Alighieri di Malta, e Biagiulisa, presidente dell'Associazione Vittime della Strada della provincia di Ragusa. Il libro, come ha già detto il nostro speaker, è stato edito da Carlo Saladino. Lo ringrazio per aver creduto in questo mio lavoro. Le bellissime foto che si trovano all'interno sono state realizzate da Angelo Modesto. Senti, La razza d'oro dei branciforti, un libro che affascina ma anche incuriosisce. Parla di uno splendido arredo seicentesco del Palazzo Reale di Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana, che da te è stato svelato. Il libro sicuramente incuriosisce, ma ad affascinare, incantare, meravigliare, stupire lo spettatore, è la razza con i suoi 15 metri quadrati di superficie riccamente ricamata in oro e seta. Svelato perché io ho ricostruito le vicende recenti dell'arredo, quelle relative al suo acquisto all'asta del 1964, ma anche le vicende storiche della prima metà del Seicento, periodo in cui l'Arazzo venne realizzato. E non solo svelato perché ne ho ricostruito la sua storia, svelato perché dall'analisi delle decorazioni ho ricostruito le vicende di quella che fu la famiglia più importante del XVI secolo del regno di Sicilia. Mi riferisco alla famiglia committente dell'Arazzo, i Branciforti. Senti, tu dici in questo lungo titolo, infatti è scritto questo, una storia da attraversare. Perché? Perché io non ho semplicemente elencato i fatti storici, ma ho analizzato il contesto storico, ma anche quello religioso, culturale, economico e religioso. È come se facessi intraprendere al lettore un viaggio dentro la storia. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, non ci sono aggiornamenti, chiudiamo quindi questa edizione di Spazio Notizia, ma ovviamente ci ritroviamo più tardi, come sempre, su Sicilia 24. A dopo. Grazie. 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 Grazie.